In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre alle ore 16 e 30 nel teatro della scuola Vairo in via Aldomoro ad Agropoli si terrà l'evento dal titolo Il coraggio di uscire dal silenzio. Il programma della manifestazione prevede i saluti del sindaco Adamo Coppola, l'intervento del dottor Gianfranco Yelmi, medico della dottoressa Monia Monzo, coordinatrice del centro antiviolenza del piano sociale di zona S8 di Vallo della Lucania, il Vollo delle Farfalle, l'avvocato Benedetta Sirignano, penalista, l'avvocato Raffaella Di Maio, legale CAV e della dottoressa Adele Della Torre, assistente sociale. Interverranno inoltre alcune donne che sono state vittime di violenza, le quali porteranno le loro testimonianze. Ci sarà anche un momento di danza a cura della scuola di danza di Rita Polidoro. A moderare l'incontro sarà la dottoressa Maria Giovanna D'Arienzo, assessore alle politiche sociali. Domenica 24 novembre, invece, alle ore 11.30, in piazza Vittorio Veneto, si terrà un flash mob realizzato dagli studenti degli istituti superiori della città a cura di Terry Dance. Interverrà la dottoressa Simona Letta, assistente sociale del centro antiviolenza e il Vollo delle Farfalle. Gli ultimi dati Istat evidenziano che circa 7 milioni di donne in Italia dai 16 ai 70 anni, dichiara il sindaco Adamo Coppola, hanno subito almeno una volta nella vita una forma di violenza. Numeri impressionanti, se si considera che a praticare le violenze siano stati partner o ex-partner. L'amministrazione comunale, afferma l'assessore con delega alle politiche sociali, Vanna D'Arienzo, è da sempre vicina alle vittime di violenza. Presso il nostro comune sono attivi lo sportello contro la violenza assistita per minori abusati e maltrattati e lo sportello contro la violenza di genere. La sensibilizzazione e la prevenzione possono essere mezzi utili a far sì che tale piaga sociale possa venire una volta per tutte arginata e magari un giorno sconfitta.